Si terrà il 4 febbraio la prossima riunione al Mise per discutere della questione Treofan. A convocarla il vice capogabinetto del Ministero Giorgio Sorial, che come annunciato in precedenza ha chiamato a partecipare al tavolo anche i presidenti di Campania, Puglia e Umbria, l'ambasciatrice indiana e la dirigenza di Management Capitali, la società di Carlo De Benedetti che ha venduto la Treofan agli indiani della Gindal. Prosegue intanto la protesta dei lavoratori in presidio permanente davanti ai cancelli dell'azienda.